Alcuni docenti ci chiedono se è possibile che un dirigente scolastico decida ad anno scolastico avviato di modificare l'assegnazione di docente alle classi. Ebbene, questa pratica di modificare l'assegnazione di docente alle classi ad anno scolastico avviato, cioè dopo un mese, dopo due mesi, ma anche dopo 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, è una pratica illegittima. Infatti i docenti devono sapere che l'articolo 461 del decreto legislativo 297 del 94, il testo unico della scuola, vieta questa procedura. Cosa dice l'articolo 461? Non si dà luogo a spostamento del personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se questo riguarda solamente un movimento solo per l'anno scolastico in corso, quindi è praticamente impossibile agire in questo modo. si tiene conto anche che nel testo unico all'articolo 396 il dirigente scolastico deve eseguire le delibere dei collegi, per cui deve dare anche conto alla delibera del collegio docente, al parere del collegio docente sull'assegnazione di docente alle classi, alla delibera del consiglio d'istituto su tale assegnazione. Dunque, l'assegnazione del docente dei classi è non una prerogativa esclusiva del dirigente scolastico, ma il dirigente scolastico esegue una delibera del consiglio d'istituto e deve poi mantenere anche il rispetto della normativa vigente. Dunque, non può spostare sicuramente un docente dopo il ventesimo giorno dalla sua assegnazione alla classe in altra classe, oppure che gli venga tolta qualche classe che già aveva. Questo per tutelare anche la continuità didattica degli alunni. Seguiteci nel canale YouTube e nel sito www.tecnica della scuola perché daremo risposte anche a vostri quesiti. Grazie.